La chiesa è delle anime sante, tutto intorno è la città, preda di un feroce formicolare, brudicame complessivo, completo, universale, totale, come di un bimbo che ha appena scalciato il formicaio con il più classico dei suoi gesti infantili. Ognuno è alla ricerca del proprio qualcosa, ma qualcosa è rimasto? Ognuno cerca di raccogliere un insieme, i propri personalissimi insiemi, quelli che permettono il ricordo, la memoria, la nostalgia, il rimpianto. Insieme a me non è rimasto nessuno, ma siamo ancora in tanti, come anime perse, a non ritrovare il sorriso. La chiesa è delle anime sante, tutto intorno è macerie, avanzi di distruzione. Nel nostro ricominciare siamo anime perse, solamente e soltanto.